anche il tubo dell'acqua del radiatore che sta uscendo è giusto per vai dai che figa qua almeno vai a casa hai detto che oggi non mangi la griglia quindi oggi i bracci mi mangi i bracci mi mangi porta sì devi tirarla giù ancora forse dovevamo girarlo però gli hai dato un po di pedalata dovrebbe averla sputata ma la prima volta con il leone è normale è tutto nelle regole tutte le sante volte basta una volta per conoscere spampi fai conto che io lo conosco da 40 anni chi è il signore che era lì che faceva da quel bastone in mano del struttore bravo due aspetta e dopo va